E' il modo di essere in ogni intenzione, è un dolce come l'amore, 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 è un dolce come l'amore. Non ho mai avuto dubbi sull'innocenza del presidente Mancino, non posso che rallegrarmi perché finalmente ha avuto giustizia da un tribunale che ha riconosciuto la sua totale stranità ai fatti che gli sono stati contestati otto anni fa. La sentenza di assoluzione non servirà tuttavia a ripagarlo dalle tante sofferenze ingiustamente patite in tutto questo lungo lasso di tempo, così Ancelo Antonio D'Agostino nel mostrare la solidarietà all'ex presidente del Senato. Esprimo la soddisfazione mia di rivoluzione cristiana per l'assoluzione di Nicola Mancino a cui non abbiamo mai fatto mancare la solidarietà, la vicinanza e la preghiera per la difficile prova a cui è stato ingiustamente sottoposto, lo afferma in una nota Gianfranco Rotondi, segretario di rivoluzione cristiana. Commenta l'assoluzione di Nicola Mancino a Palermo, non avevo dubbi sull'esito della vicenda, dice il prefetto Carlo De Stefano, sottosegretario all'interno nei governi Letta e Monti. L'attività e l'impegno profusi da Mancino sono stati espletati nell'interesse delle istituzioni dello Stato. Viene oggi restituito onore politico e degnità a un uomo delle istituzioni, sottolinea il deputato del PD Umberto del Basso De Caro. Ha vissuto da vicino momenti di tormento dei Mancino l'ex senatore Enzo De Luca. Oggi splende il sole, dichiara abbiamo condiviso momenti bui e di grande incredulità. Quando ci incontravamo a Palazzo Madama non ci capacitavamo di come fosse diventato l'emblema di una trattativa, lui che ha operato solo e esclusivamente nell'interesse dello Stato. Da oggi l'incubo è finito. Soddisfazione espressa anche da Giuseppe Gargani all'interno dello speciale Studio Sera. Da cinque anni che sostengo la completa assurdità di tutto quello che è avvenuto. Quindi se ci fosse stata una cosa diversa sarebbe stato uno schianto. Per cui è stata ristabilita la giustizia, cinque anni di calvario inutile. E comunque, insomma, lo spirito di sopportazione di Nicola è stato anche, al di là di qualunque aspettativa, credo che è inutile ricriminare. La giustizia ha avuto questo corso. Abbiamo un processo che si è fatto sul nullo, perché sul nulla perché il fatto non giustiste. Infatti, non esisteva un fatto e questa era la problematica che ci angustiava. Perché quando un fatto non esiste, evidentemente non si può ricercare nessun reato. E quindi Nicola ritorna alla sua integrità tradizionale, che è stato il suo pezzo forte, la sua trasparenza per tutta la vita.